E' iniziata la stagione 2 capitolo 3 e non so se ve ne siete accorti le prestazioni sono ai minimi storici e nel video di oggi vedremo come massimizzare fps e prestazioni riducendo anche un pochino ping e input delay il mio obiettivo di questo video è darvi il massimo numero di informazioni nel minor tempo possibile quindi iniziamo la prima cosa che voglio dire vale per tutti anche per i giocatori da console che spesso mi chiedono dei consigli ed è di tenere al minimo il numero di amici su Fortnite perché questi influiscono leggermente sulle prestazioni e sulla connessione questo non vuol dire di cancellare tutti gli amici ma se avete 2000 amici e giocate solo con 20 persone valutate di ridurre un pochino questo numero e di utilizzare le skin, i picconi e gli zainetti con le texture più semplici possibile e senza animazioni che cosa significa skin semplici come ad esempio il nostro supereroe ma anche la default skin è un'alternativa valida se non avete molte skin soprattutto non ci deve essere movimento il mio zainetto è un esempio di zainetto sbagliato per massimizzare gli fps dopo questa piccola premessa che vale anche per la console sappiate che il maggior numero di impostazioni che vedremo in questo video non ci sono nella console ma le poche che sono presenti le affronteremo e vedremo come impostarle iniziamo dalle due nuove impostazioni che sono download automatico delle texture ad alta risoluzione che vogliamo su no e promemoria texture ad alta risoluzione che vogliamo su no per vedere il perché torniamo un attimo nel launcher di epigame facciamo applica ed eccoci nel launcher apriamo la biblioteca clicchiamo nei tre pallini qua di fianco a Fortnite e apriamo opzioni come vedete queste texture ad alta risoluzione sono quelle di cui parlano le due impostazioni precedenti il download automatico ce le scarica in automatico e l'altro sostanzialmente ci ricorda di scaricarle vogliamo entrambi le impostazioni su no e vogliamo togliere il tick blu su queste texture ad alta risoluzione perché libereremo così un sacco di spazio sul nostro computer e aumenteranno le prestazioni non solo perché non dobbiamo caricare le texture ma anche perché avremo più spazio libero sul nostro disco rigido prima di tornare nel gioco vediamo altre due piccole cose che possono migliorare le prestazioni clicchiamo sui tre puntini di nuovo di Fortnite e facciamo verifica questa cosa verificherà tutti i file di Fortnite che ci sono all'interno del nostro computer ed eventualmente li correggerà e anche questo potrebbe migliorare le prestazioni e ultima cosa mentre facciamo la nostra verifica assicuriamoci di avere i driver video più recenti installati sul computer nel mio caso che ho una scheda video Nvidia devo aprire il pannello di GeForce Experience cliccare su driver e come potete vedere ho già il driver video più recente spesso se da un giorno all'altro ci sono dei problemi che prima non avevamo probabilmente è stato fatto un aggiornamento del driver video e qua in alto a destra potremo scegliere l'opzione di installazione rapida per aggiornare i driver video dopodiché riavviamo il computer e riapremo Fortnite e andiamo a vedere le altre impostazioni rieccoci nelle impostazioni di Fortnite parlando della modalità di rendering ragazzi ho scoperto una cosa che non sapevo e che è veramente importante per massimizzare le prestazioni non ha alcun senso ma la modalità migliore per massimizzare le prestazioni è sicuramente la prestazione beta ma dovete tornare un attimo sulla DirectX 12 e riavviare il gioco perché una serie di impostazioni che ci sono solo sulla DirectX 12 influenzano anche il gioco all'interno della modalità prestazioni non ne ho parlato in nessun altro mio video l'ho appena scoperto ma è così quindi ragazzi seguitemi rimettete la DirectX 12 e vediamo tutte le impostazioni allora per massimizzare le prestazioni ovviamente vogliamo lo schermo intero se vogliamo possiamo ridurre la risoluzione per aumentare le prestazioni ma peggiorerà notevolmente la grafica il limite frame rate deve essere di 1 al di sopra degli Hz del vostro monitor nel mio caso ho un monitor da 80 Hz quindi non ha senso avere dei frame superiori a 120 fps se avessi un monitor da 120 lo terrei a 144 e se avessi un monitor di 144 Hz lo terrei a 160 fps per quanto riguarda le impostazioni grafiche e il daltonismo nella modalità prestazioni c'è qualche bug in questa season ma in generale sono stati migliorati i colori all'interno del gioco e non vedo più grossi vantaggi a utilizzare modalità di daltonismo cosa che invece facevo nella scorsa season con Tritanopia per quanto riguarda la preimpostazione qualità vogliamo mettere preimpostazione ridotta fare applica e poi riportare al massimo la risoluzione 3D anche qua c'è un piccolo bug di mezzo per cui se non abbiamo mai modificato la risoluzione 3D abbassarla e rialzarla come abbiamo appena fatto cliccando ogni volta su applica potrebbe migliorare un po' le prestazioni distanza visuale vicino se abbiamo un computer di fascia medio-bassa o medio se abbiamo un computer di fascia medio-alta ma sappiate che non cambia la distanza a cui vediamo gli avversari quelli comunque a una certa distanza fissa che sui 270 metri verranno renderizzati anche se abbiamo la distanza su vicino ombre su no anti-aliasing no texture ridotto queste due le abbiamo già viste sono su no effetti ridotto post-processing ridotto per quanto riguarda la grafica avanzata v-sync no motion blur no mostra fps o sì o no se li volete vedere modalità di rendering ne abbiamo parlato all'inizio anche la DirectX 11 si fa rispettare ma la DirectX 12 è stata molto migliorata ultimamente quindi se non avete a disposizione la modalità prestazioni o non vi piace date una possibilità alla DirectX 12 perché sta migliorando continuamente consenti il rendering multi-thread lo vogliamo mettere su sì se abbiamo 4 o più core all'interno del nostro computer come vedere quanti core abbiamo tasto destro sulla barra delle impostazioni gestione attività clicchiamo su prestazioni cpu e guardiamo qua in basso a destra dove c'è scritto cores se i cores sono più di 4 vogliamo attivare questa impostazione se sono 1, 2 o 3 invece vogliamo tenerla disattivata quindi tengo il rendering multi-thread su sì debugging crash gpu ha un costo sulle prestazioni quindi no indicatori di latenza no invidia reflex abbassa latenza on più boost è nella gran maggioranza dei casi l'impostazione migliore ma se proprio non riuscite a trovare pace vi consiglio di provare anche no perché su alcuni computer tenerla su no potrebbe migliorare le prestazioni ma nella stragrande maggioranza dei casi la scelta è on più boost la stessa cosa vale per DLSS nella stragrande maggioranza dei casi no è la scelta migliore ma è una cosa che ha a che fare con l'anti-aliasing e in certi casi tenerla su prestazioni può dare dei vantaggi quindi se volete fare una prova prima su no e poi su prestazioni e vedete quale opzione vi dà il maggior numero di fps ray tracing vi permette di vedere il vostro riflesso nelle vetrate degli edifici al semplice prezzo che avremo 3 frame al minuto no 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 non attivate il ray tracing prima di concludere andiamo anche su EU partite e teniamo su no statistiche di debug di latenza e statistiche di debug effettive applichiamo a questo punto se ci piace di più la DirectX possiamo rimanere in DirectX ma ovviamente per massimizzare le prestazioni vogliamo andare all'interno della modalità prestazioni beta applicare e riavviare il gioco ed eccoci all'interno della modalità prestazioni alcuni di voi mi hanno segnalato però che hanno dei problemi da sempre in performance mode a caricare le texture vedono dei palloncini di colore che non si caricano bene e questo compromette la possibilità di giocare ho trovato in rete due possibili fix che è come ho già detto nel video limitare i frame rate quindi non far caricare al computer il massimo di frame rate che può fare ma mettere un limite che è appena superiore al numero di hertz del nostro monitor ed eventualmente aumentare le texture a elevato o epico fate questa prova ragazzi vedete se riuscite a migliorare la questione delle texture anche se purtroppo non avendo mai avuto il problema non posso garantire che sia la soluzione comunque come dicevo a questo punto siamo all'interno della performance mode queste sono le uniche impostazioni che possiamo modificare ma come vi dicevo tutte quelle che abbiamo modificato in direct x12 anche se non le vediamo hanno effetto sulle nostre prestazioni di gioco quindi ricordatevi di fare tutte le modifiche in direct x12 poi cambiare in prestazioni e riavviare il gioco prima di iniziare a giocare prima di andarmene ultimo consiglio importantissimo che ti posso dare per migliorare le prestazioni oltre a utilizzare il mio codice creatore pulsar trattino basso gaming hashtag ad è di andare in questo video qua sopra e guardarlo almeno dal minuto 13 in cui faccio vedere una serie di impostazioni da cambiare all'interno di windows all'interno del computer molto molto semplici per massimizzare le prestazioni oltre a questo video ho una serie di altri video sulle impostazioni te li lascio qua sotto in descrizione nel caso volessi andare a vederli ciao ragazzi bella ciao